il nostro appuntamento di questo sabato qualcuno mi chiede quando è il deputato della ferrari 3 4 5 marzo in bareno ma poi la settimana del 23 25 vedremo la ferrari come si comporta in pista quello sarà il test definitivo i simulatori contano fino a un certo punto abbiamo così chiuso io sono marco di nuovo mucche cervi ma non c'è regole ecco ho visto appena delle mucche poi se ci sono ancora le faccio vedere comunque Grazie a tutti.